tibre e cremona mantova due destini connessi tra di loro perché di due strade pardon autostrade che si intersecano stiamo in fin dei conti parlando sullo sfondo si intravede una bandiera stelle strisce proprio così ci sarebbe un fondo americano pronto a rilevare le quote di stradivaria per portare avanti il progetto eppure senza un passo avanti nel tibre rischia di naufragare definitivamente il progetto cremona mantova già messo in crisi da beghe legali e da una politica che sembra non andare del tutto d'accordo almeno nel casalasco cerchiamo di capire il problema il progetto della cremona mantova ha un buco in mezzo di circa 8 chilometri che si trova proprio nella zona casalasco per la precisione dell'olio po toccando anche la provincia mantovana fra calvatone e marcaria il progetto prevede che l'asfalto da sfruttare per la cremona mantova debba essere quello del tibre autostradale che però come noto è fermo nella campagna di sissa tre casali nel parmense dunque cosa fare portare avanti di un altro passo il tibre per arrivare magari a rilanciare il progetto dell'autostrada cremona mantova l'idea del tratto centrale in comune si deve a due motivazioni da un lato evitare consumo di suolo dall'altro dividersi costi col tibre che si deve occupare di quegli 8 chilometri e il concessionario della cremona mantova che penserebbe a tutto il resto a proposito di concessionario il 29 novembre è convocata l'udienza del tar tra regione stradivaria con quest'ultima che si è vista revocare la concessione per inadempienze ora chiede i danni dopo che la corte dei conti aveva inizialmente dato ragione a regione lombardia ed è proprio qui che si sviluppa la novità del fondo americano quello della ifm global infrastructure che gestisce fondi pensione australiani e ha già rilevato la aleatica società con sede in messico che gestisce la brebemi se gli americani rilevano stradivari ecco che la partita a carte bollate potrebbe anche chiudersi subito e poi e poi si tornerebbe a quegli 8 chilometri con regione che sollecita il governo e il ministro salvini a perfezionare un passo avanti sul tibre insomma la partita difficile tutta in salita per chi tifa per la cremona mantova ma non ancora del tutto chiusa grazie a tutti